Eccoci qua, benvenuti a tutti e ben ritrovati alle video premiera Biotting. Io sono Luca Boltri e sarò il moderatore per questa video diretta. A brevissimo ci collegheremo con il nostro collega Giuseppe dalla Toscana che ci farà visionare un fantastico Gran Soleil 43 del 2009 versione Botin e Car Kik. Una piccola presentazione per quanto riguarda la video premiere. Che cos'è? Non è nient'altro che una presentazione in anteprima di una barca che da pochissimo è entrata nel parco barche di Abaiotting. Abaiotting che come metodo di lavoro, come tutte le barche che propone, sono barche con incarico di vendita in esclusiva delle quali siamo stati a bordo prima di metterle sul mercato e di proporle. Quindi barche davvero in vendita. Io detto questo darei la linea a Giuseppe perché così andremo a vedere questo bellissimo Gran Soleil. Eccolo qui che Giuseppe ci sta per raggiungere. Incomincio a vedere la sua fotografia e a breve lo vedremo anche dal vivo credo. Allora intanto eh questa barca che vedremo oggi è un duemilanove come scafo immatricolata duemiladieci. Eccoci qua Giuseppe buongiorno. Buongiorno Luca buongiorno anzi buonasera a tutti da da Livorno. Buonasera hai ragione buonasera ormai è quasi è quasi sera quindi. Buonasera a tutti dalla da Livorno siamo in un orario anche molto romantico perché sta calando il sole quindi avremo delle riprese diciamo più più belle del solito ecco. Ecco perché cosa sapesse Giuseppe il romantico del gruppo ha scelto lui questo orario per poter dire questa cosa. Assolutamente assolutamente. Giuseppe cosa ci fai vedere oggi di bello? Oggi vi faccio vedere un un Gran Soleil un Gran Soleil 43 botina e car kick. Sì. Che non è questo che questo è della Tormar. Esatto un po' più impegnativo da portare. Eccolo qua una classica imbarcazione crociera regata del cantiere premio il cantiere del Pardo in questo caso una barca stampata nel 2009 e immatricolata nel 2010 è la tipica barca da da crociera regata da fabbricata dal cantiere dove si riesce a conciliare comunque un buono spazio con poi tutte le prerogative che vedremo quando siamo a bordo per far andare la barca veramente a vela e avere una barca che 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 dia delle soddisfazioni nella nella conduzione. Questo è particolare. Giuseppe questo modello qui diciamo fu uno dei modelli assolutamente di punta no? Di di Gran Soleil perché assolutamente non so quante anche noi stesse che facciamo solo usato ma ne abbiamo viste passare tante no? Assolutamente sì. Questo è un modello di grandissimo successo. Questa poi è anche una delle ultime delle ultime release perché mi sembra che nel 2012 è uscita la versione dell'architetto maletto che cambia completamente. Questo poi lo vedremo all'interno. La particolarità rispetto alle imbarcazioni classiche di questo modello della Gran Soleil di avere la cucina L che è proprio lì hanno iniziato a farlo in quel in quegli anni. In quegli anni lì si poteva scegliere 2009 2010 si poteva scegliere pop aperta o pop chiusa cucina lineare o cucina a cucina L. Però bando le ciance io farei salire salirei a bordo mi sto mettendo un po meglio la passarella onde evitare di fare il bagno nel porto di giorno. Sì ci sono posti più belli. Ci sono posti decisamente più belli e eccoci arrivati nell'imbarcazione. Tra l'altro oggi ci tengo a dirlo abbiamo la fortuna di avere Giuseppe a fare questa diretta che Giuseppe diciamo del del gruppo Bayotting è sicuramente la persona che meglio conosce Gran Soleil essendo anche stato per tanti anni uomo di Cantiere del Pardo e quindi abbiamo veramente una fortuna nelle fortuna ecco ci tengo ci tengo a dirlo. Certo allora questo è un è una versione crociera regata con delle attrezzature comunque race intanto la prima cosa da notare che era un'opzione c'è il tendipaterazzo regolabile una grandissima ruota che è un po' il fiore all'occhiello di tutti Gran Soleil perché è molto fluida molto morbida anche sotto sotto raffica non è un timone che 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 sempre morbido è facile da facile da utilizzare nella zona di poppa abbiamo due gavoni nella parte centrale si apre del posto che Gran Soleil ha scelto per mettere la zattra autogonfiabile tutta la barca è stata studiata per riuscire a avere i pesi più centrati e più in basso possibile proprio per migliorare le le performance anche l'albero è un è un maggiorato della sparca performance è veramente una bella una bella bestia di una bella bestia di albero la barca in questo caso beh essendo nel pozzetto c'è chiaramente il il suo bel trasto randa che oggi tende a sparire però questo consente veramente di regolare bene le vele e sei winch maggiorati della sei winch maggiorati dell'Arken che era anche questa anche questa era chiaramente un'opzione giuseppe intanto ti scorsi ti interrompo e comincia ad arrivare un po di domande io incomincio a rispondere insieme insieme a te allora ci chiedono che bandiera la barca bandiera italiana giusto assolutamente sì sì e poi il pescaggio io diciamo riporto io questo dato che ho qui la scheda è due metri trentacinque sì io ti dico ti ringrazio se mi mi aiuti in questo senso perché ho avuto la scheda veramente da poco non ho ancora avuto modo di studiarla di studiarla a dovere e quindi e quindi necessiterò del tuo aiuto per alcune per alcuni alcuni elementi come come vi dicevo sempre continuando nel nel pozzetto come tutte le barche che c'era regata che si rispettano non vi è un tavolo fisso perché darebbe fastidio nelle concitate operazioni di di regata le persone si attrezzano con un tavolo con un tavolo ripiegabile un'altra cosa da un'altra cosa da da notare che diciamo è uscita in quegli anni era tipica di tiran solel che tutte le tutte le le drizze corrono sotto coperta per rendere la coperta pulita ma hanno un tubo inox dedicato per ogni per ogni drizze in modo da minimizzare eliminare completamente la possibilità di incaglio un'altra cosa che era tipica di quella serie era il fatto che la capottina per per avere una linea bella anche da da chiusa e non avere una massa in forme lì davanti a una scassa dove si può ripiegare si può mettere al al suo interno ok poi vediamo qua un altro un'altra opzione era sicuramente qua i cancelli le tra gli apribili laterali alla rotaia del genua classica al sartiame in spiroidale non è non è un sartiame in tondino ok a a il ovviamente ci mancherebbe altro al vang al vang rigido qua ho aperto un attimo la la rand prova a vedere una processoria molto importante alla rotaia arken con carrelli arken all'albero e questo consente di manovrare la vela oltre ad avere una vela molto performante consente di manovrare la vela in maniera ottimale e un'altra cosa che è stata montata su questa imbarcazione è comunque un radar anche qua a qua si vede l'albero maggiorato tre crocette c'era la versione anche la versione 2 e qua si vede il radar che è insolitamente ma molto intelligentemente montato su una crocetta e non a prua via dell'albero per poter evitare che durante le virate del fiocco ci sia il classico schiaffo della vela sulla sul carter del radar che poi prima o poi lo incrina poi inizia entrare l'acqua e il radar non funziona quindi diciamo dai nima vero giuseppe mi direi di sì sono non sono sicuramente quelle originali poi un'altra cosa carina a parte a parte diciamo il sole che si staglia sull'acqua come le vi dicevo prima per la nota romantica di questo video e secondo me è una barca di questo tipo è buono che non abbia il tech in coperta perché una barca sportiva e nel corso del tempo il fatto di non avere il taxi si rileverà su un grandissimo vantaggio nel senso non essendoci di tec non si consuma si fa molto almeno fatica nel tenere la barca in ordine anche quando questa dovesse andare avanti negli anni assolutamente si tutta manutenzione in meno che che anche chi la compra avrà da fare perché chiaramente assolutamente l'altra cosa appunto che era una delle caratteristiche che nasceva con questa barca grazie al fatto che tutte le manovre sono carrenate passano sotto la sotto la coperta ci si riesce a camminare molto agevolmente si riesce a sfruttare anche anche questa parte qua sto camminando in maniera molto molto comoda la tuga è molto piatta nonostante dentro li volumi siano comunque molto soddisfacenti e quindi si mantiene una linea sportiva una buona abilità abilità interna ma soprattutto una possibilità di circolazione sulla barca molto molto valida anche i passavanti sono sono molto ampi assolutamente sì giuseppe visto che sei qui intanto io rispondo e perché ho la scheda che chiedono un po quali vele quali vele ci sono in in dotazione allora faccio io un brevissimo elenco poi la scheda comunque la trovate sul nostro sito la barca una una randa in dacron e una in mylar del 2018 un genoa del 2018 uno spinnaker e un gennaker quindi queste sono le vele che abbiamo in dotazione nella zona di nella zona di nella zona di prua c'è un ampissimo gavone gavone dell'ancora che ora sì il la volgifiocco è sotto coperta una modifica una modifica che ha fatto il proprietario che è molto intelligente originariamente è la manovra così della volgifiocco e diciamo ha degli angoli prima di risalire in coperta che possono dare durezza nella manovra con questo sistema ha il proprietario attuale allargato l'angolo e quindi si riesce a manovrare una volgifiocco sotto coperta qui uscita poi è qua in maniera molto molto semplice e molto e molto fluida dopo gli facciamo i complimenti tanto si collegherà perché lo faremo intervenire quindi è collegato per cui gli faremo i complimenti live sì no è una modifica che tanti armatori hanno fatto era veramente difficoltoso avvolgere il l'avvolgifiocco col sistema con gli angoli studiati di progetto erano molto stretti e bisognava molto spesso mettere la manovra sul winch per poter avvolgere l'avvolgifiocco in questo modo si evita di mandare il più antipatico qua prua a cazzare la cima da qua e si riesce a fare dal posizione a riscaldamento e niente poi di che altro dire è una bella bestia quando una vede da questo a questa cosa è una barca ancora attuale come linea cioè sta diventando un classico sia un modello che non possa mai un modello che non passò mai devo dire ci sono proprio dei modelli che Gran Soleil in generale Gran Soleil ha sempre fatto dei modelli super vendibili e attuali ma questo devo dire questo progetto di Botin tra il 40 e il 43 hanno proprio preso una serie meravigliosa è stata una serie molto azzeccata sia come marinità e sia anche come come spazio interno se tu sei d'accordo se non ci sono domande sull'esterno io andrei verso l'interno sì assolutamente ancora qualche domanda sull'elettronica ma tanto man mano tu vai pure io rispondo l'elettronica è completa adesso qua è stato comprato un GPS nuovo credo che sia un Axion 9 un Axion 9 che la barca breve verrà portata in secca per motivi di antifurto è stato è stato sbarcato ma qua c'è un un modello ovviamente eh asportabile il classico posto del pilota automatico di tutti i Gran Soleil e là sì dall'altra parte c'è ovviamente i comandi del motore la manetta la manetta del gas e per quanto riguarda l'elettronica l'altra posizione classica sono i tre classici strumenti che sono due e due della Raymarine a grande schermo non sono in cridata uno per la profondità uno per la velocità e poi la stazione nel vento nella parte nella parte centrale perfetto sai cosa mi sono dimenticato di accendere la luce quindi scendo avrete un attimo di più buio ma no si vede bene si vede bene sì sì molto e allora considerate che adesso il sole è praticamente questa è luce naturale questa è luce naturale fantastico e non c'è non c'è niente di non c'è niente di acceso no no è molto luminosa riesce si riesce a vedere bene perché io benissimo senza occhiali non ho non ho la percezione benissimo si vede molto bene ecco come dicevo come dicevo al come dicevo al prima questo è un modello che è particolare perché è stato il primo anno che il cantiere del Pardo offriva la la cucina L anziché la classica cucina lineare sul lato sul lato sinistro ok perfetto allora aspettate che però è meglio che comunque accendere le luci perché se no si si non voglio averti sulla coscienza Giuseppe se inciampi poi dici colpa mia che non ti metto accendere un'altra cosa che non è poi così banale tutte le barche moderne che hanno una filistratura molto molto sottile molto filante sempre per un discorso di linee esterne tendono a sparire gli oblo qua ci sono piccolini ma ci sono ovviamente sia da questa parte sia dal lato della della cucina il tavolo da carteggio è messo in questo senso qua c'è il display del radar VHF lo stereo e qua i comandi del riscaldamento vebasto perché è un'altra cosa e la barca ha anche il riscaldamento così facciamo io non ho risposto sono arrivato al riscaldamento non ho voluto rispondere per dirlo al riscaldamento adesso abbiamo la risposta è un vebasto è un vebasto e se no diciamo tutto subito perde anche la pilla ecco un'altra cosa un'altra cosa da notare questo qua è un tavolo custom fatto fare dagli attuali proprietari perché è anche in versione abbattibile per poter sfruttare eventualmente la dinette il tavolo originale che mi dicono che è a disposizione è fatto differentemente con un piede diverso ha un'altra abbattibile in modo che quando si apre raggiunge anche chi fosse seduto per pranzare da questa parte in modo da avere veramente una tavolata una tavolata lunga anche questo anche il puff del carteggio ha un sistema tali per cui ovviamente l'ho subito fatto al contrario si gira si gira dall'altra parte in modo da consentire una seduta in più qualora ci fosse montato il tavolo il tavolo completo là c'è una televisione che è stata portata anche qua in casa per motivi di decoder ma è comunque presa nel prezzo il legname il classico colore grand soleil che alla fine è quello che mi piace di più anche se in questi anni hanno iniziato o l'anno dopo hanno iniziato a fornire anche il il rover chiaro per andare dietro un pochettino alla moda però diciamo questo è un colore che non non passa mai abbiamo abbiamo un pompa pedale acqua acqua salata sì un un plexiglass qua per evitare che quando uno sciacqua possa bagnare chi fosse che fosse eventualmente seduto da da questa parte l'albero è ovviamente passante passante sì abbiamo due cabine abbiamo due cabine gemelle due cabine matrimoniali gemelle sì la cosa particolare la cosa importante Giuseppe che non abbiamo detto prima ma poi lo ribadiremo anche alla fine che secondo me è sempre un centro di costo che insomma se fatto è meglio la cupia delle steel drive di questa barca è stata cambiata quest'anno quindi diciamo che siccome è tendenzialmente poi un lavoro che speste volte ci si trova a dover fare invece è già stato affrontato dai proprietari quindi perché vedo di tirare su tanto che già che sono qui come si può dire sì anche il riser è cambiato quest'anno il motore per questo è il vano motore il motore appare in in ottime condizioni dal punto di vista estetico direi di sì il motore ricordiamo che è un volvo penta da 55 cavalli riappoggio la telecamera ecco come come dicevo dal punto di vista tecnico la cosa interessante di questa barca è che sotto ogni ogni cabina di poppa c'è un serbatoio di acqua uno qui uno dall'altra parte il serbatoio del gasolio invece messo in posizione verticale centrale tra le due cabine in modo da lasciare la prua completamente libera sì e avere una perfetta simmetria dei pesi quello che dicevo all'inizio che è diciamo la tipicità di questo progetto l'altra tipicità di questo progetto è il fatto che l'albero il bulbo e le lande sono attaccate al famoso ragno in acciaio zincato sì e ci troviamo un attacco delle lande di questo tipo per avere una rigidità massima una struttura veramente da porta aerei e più la struttura è rigida più la barca qualsiasi forza non la ammortizza ma la trasferisce in componente di avanzamento questo è l'albero passante e qua vi faccio vedere anche un'altra cosa che generalmente le persone magari non tutti sanno quasi si vede la gabbia ok che è tutta la struttura della barca con la sua doppia doppio giro di prigionieri tutto asciutto tutto in ordine qua diciamo guardando è conforme all'originale bene molto importante è assolutamente molto importante poi nella zona nella zona di prua abbiamo una cabina matrimoniale si può dormire vedendo anche le posizioni della bajur si può dormire con la testa a prua ok la cabina è molto molto spaziosa che ha una cosa interessante sia davanti sia qua abbiamo un vano libero perché come vi dicevo non essendoci la necessità di mettere i serbatoi questo vano qua sotto è tutto libero e comodo non dico per le velle ma per qualsiasi diavoleria uno voglia mettere abbiamo lo spazio e se vogliamo usare la barca in maniera sportiva lo lasciamo libero non abbiamo del peso inutile a prua qua vi faccio vedere un controtampo della barca poi per curiosità vi apro anche quella cabina in quella cabina ci sono ricoverate le vele delle manovre quindi è piena di materiale ok un'altra cosa bella di questo tipo di progetto che c'è in buona parte della barca il soffitto rivestito con pannelli con lo sky bianco ok anche questa è una cosa carina questo è il bagno dell'armatore sempre siamo in luce naturale ottimo con un wc manuale molto bello il carabottino di tec dove stare in piedi a fare la doccia e visto che è un bagno importante essendo in legno quindi è anche magari delicato il cantiere su questo modello iniziava a fare la parete di plexi che si apre per fare la doccia e va a coprire quella zona là in modo da creare un box doccia e evitare di dover asciugare tutto il bagno alla fine alla fine appunto della doccia stessa ah mi sono dimenticato il bagno di prua però poi mi sono riservato da ultimo perché finire col bagno come sembra brutto questo invece è il bagno il bagno di poppa anche lui rifinito alla stessa maniera del bagno del bagno di prua perfetto faccio così così non mi vedete mantengo l'anonimato ma tanto dopo tiocca e qua cucina classica due fuochi frigorifero passetti i vari cassetti le varie i vari cassetti i vari sportelli impermi c'è un oblò anche qua sopra la cucina scusate è qua comunque nella zona della cucina e qua come vi dicevo la fabina di poppa che è completamente speculare all'altra che però adesso con un telo di protezione per i matarassi occupate da le due vele di prua che credo che siano un gennaker e un cozzero adesso però mi devi dare conforto te delle manovre delle attrezzature c'è un gennaker spi come vele extra dalla randa del gennaker diciamo che se non ci sono domande la visita anche allora ti direi che abbiamo abbiamo risposto a qualcosa faremo rispondere anche a a Massimo che lo vedo lo vedo collegato per cui ti direi mano a mano hai talmente spiegato bene poi ripeto essendo tu gran conoscitore di gran soleil anzi ti direi che ti puoi mettere tranquillamente dove preferisci in dinette dove vuoi mi metto in dinette io ti tolgo dell'evidenza così mi rimetto anche anche io faccio un piccolo riepilogo prima di far collegare Massimo di quello che abbiamo visto così facciamo un recap anche per chi è arrivato successivamente allora abbiamo visto un gran soleil 43 progetto bottine car kick scafo 2009 immatricolato 2010 barca come abbiamo detto di grandissimo successo di cantiere del pardo come elettronica tutta Re-Marine completa con anche radar c'è anche un GPS dell'Axium nuovo che è stato appunto portato via dal proprietario insieme alla tv perché la barca oggi avete avuto l'occasione di vederla in acqua ma verrà messa in cantiere per cui poi chi vorrà venire a bordo a questo punto la vedrà anche già fuori dall'acqua e potrà vederne lo scafo come accessoristica particolare abbiamo il riscaldamento del lavebasto manutenzioni importanti cuffia cell drive cambiata quest'anno riser anche e bombole gas con tubi di raccordo idem più altri vari ed eventuali lavori ma già questi sono abbastanza come vele abbiamo una randa in dacro una randa in mylar un genoa 2018 uno spinnaker un gennaker l'albero una versione con tre crocette pescaggio per il signore che l'ha chiesto poco fa che è arrivato dopo è due metri e trentacinque la barca batte bandiera italiana che è elica elica tre pale abbattibili abbiamo risposto anche a questo e il signore che chiedeva del rina rina scade a febbraio del duemila e venti tre quindi sì poi chi chi vorrà eventualmente affronterà questo argomento io ho detto questo Giuseppe darei farei fare un piccolo intervento voce a Massimo uno dei due proprietari se sei d'accordo ci mancherebbe altro allora vediamo un po' se Massimo ci sente io dovrei avergli dato l'autorizzazione a parlare Massimo ci sente eccoci qui buongiorno Massimo piacere piacere buongiorno a voi grazie 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 del suo del suo intervento sono sempre molto apprezzati gli interventi dei proprietari e graditi ecco beh complimenti che bella barca che ha che ha in vendita devo dire sì la barca credo che sia bella per noi è un po' un dispiacere ma speriamo di non abbandonare l'acqua perché il nostro pensiero è quello di progredire di continuare a solcare il Mediterraneo assolutamente noi siamo qui per aiutarla non ho seguito dall'inizio perché ho avuto un piccolo problema ci sono due aspetti non so se a voi perché avete fatto una presentazione bellissima una è la zatera di salvataggio non so se l'avete indicata che è in un gravone specifico nella parte popiera perché i cantieri del pardo l'hanno previsto e l'hanno inserita lì ed è una zatera di salvataggio per sei persone come prevede la normativa e l'altro è l'EPIRB che lo avete inquadrato ripetutamente non so se l'avete indicato allora sì l'abbiamo poi indicato nella scheda ma ha fatto bene a specificarlo ottima ottima cosa grazie sì Massimo una domanda che fan le riporto io qualche domanda che è arrivata e alle quali noi abbiamo la risposta ma preferisco insomma far rispondere lei una classica che arriva sempre quando c'è il proprietario è motivo della vendita motivo della vendita è che siamo due soci abbiamo superato i 70 anni e abbiamo intenzione di continuare ad andare per mare ma forse ci serve una barca leggermente più piccola perché non è così semplice cioè è una barca di soddisfazione questa ovviamente però ci vuole anche un equipaggio insomma ci vuole della gente e con l'andare del tempo magari la nostra vocazione sarà più quella della crociera crociera tranquilla e questa è una barca che invece secondo me può ancora dare delle soddisfazioni a equipaggi un pochino più giovani di noi sono d'accordo un'altra cosa che avevano chiesto che tipo di navigazione avete fatto voi su questa barca cioè avete zone di navigazione insomma interessati a sapere dove ha navigato allora la barca ha navigato siamo partiti ovviamente dall'Adriatico perché è stata immatricolata e si legge ancora da Rimini quindi abbiamo navigato la nostra penisola tranquillamente e abbiamo fatto una scelta cioè noi avevamo un'altra barca a suo tempo prima di questa in Adriatico la scelta è stata al Tirreno dove diciamo più di una volta siamo scesi da Livorno alle Oglie più di una volta siamo andati in Sardegna in Corsica diciamo che il nostro amore è l'arcipelago toscano che non ci ha mai tradito e che è una cosa secondo me stupenda una delle cose più belle che abbiamo sì 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 assolutamente ma infatti consiglio anche a chi insomma ci sta guardando che hanno scritto essere anche dall'altra parte di comunque fare un'esperienza in eventuale acquisto anche da questo lato di qua perché merita completamente poi uno se vuole tornare dall'altra parte ci va però ecco una piccola esperienza di qui io la farei ecco voi siete stati gli unici proprietari Massimo o c'è stato qualcuno prima di voi? no siamo sempre stati noi proprietari ecco quindi questo diciamo che è un valore aggiunto ulteriore perché avere di solito si può stare che su una barca 2009 ci siano stati due o tre passaggi di mano unico proprietario direi che è un grande grande valore aggiunto ecco siamo stati gli unici proprietari quando l'abbiamo presa avevamo venduto un FIS 36.7 sì per cercare di avere una barca diciamo più comoda però altrettanto performante e divertente non ci siamo mai pentiti in questi undici anni della nostra scelta abbiamo sempre curato la barca secondo noi perché tutti gli anni abbiamo fatto le manutenzioni tutti gli anni abbiamo fatto carena tutti gli anni gli abbiamo fatto fare almeno tre mesi di riposo su una sella lasciutto perché forse anche l'anno scorso abbiamo provato praticamente se c'era qualche problema di carena non è venuto fuori niente quindi i valori sono più che buoni poi devo dire che è ottima la scelta di farla riposare tutti gli anni fuori è molto importante ecco perché purtroppo soprattutto da noi in Liguria e Toscana non è detto anzi non è scontato per nulla e quindi ottima ottima cosa e c'era qualcosa che voleva aggiungere Massimo che ci possiamo essere dimenticati che può essere utile al futuro acquirente che le venga in mente sinceramente credo che voi siate stati molto bravi e professionali io non sarei stato così capace di in qualche maniera descrivere descrivere la barca perciò sono a disposizione per qualsiasi richiesta domanda però penso che si sono stati bravissimi no poi devo dire oggi abbiamo l'ho detto all'inizio lei non c'era ancora secondo me la gran fortuna è stata anche avere Giuseppe a bordo perché comunque Giuseppe del nostro gruppo è in assoluto quello più avvezzo sui Gran Soleil perché è stato tanti anni uomo di Cantiere del Pardo e dunque secondo me avere la presentazione anche Giuseppe è stato un valore aggiunto nel valore aggiunto per cui è venuta molto bene anche per questo devo dire quindi ne abbiamo approfittato ci siamo portati Giuseppe bene senta Massimo io la ringrazio la ringraziano anche gli spettatori grazie per il collegamento le auguro una buona serata grazie grazie mille anche dei complimenti e speriamo di conoscerci presto certo sarà un piacere buon lavoro grazie Massimo grazie grazie mille arrivederci allora Giuseppe ricordiamo ancora che la barca come hai detto all'inizio è in in Toscana zona di Livorno credo che ormai non ci sarà più tempo almeno di qualcuno che voglia venire domani ecco a vederla per vederla in acqua dopodiché si vedrà appunto in secca ma secondo me è un ennesimo valore aggiunto no? sì assolutamente perché è chiaro vedere una barca in acqua fa un effetto sicuramente migliore perché poi in cantiere diventa anche complicato a parte le manutenzioni tecniche fare le manutenzioni estetiche lavaggi o quant'altro però la cosa bellissima per un potenziale acquerente è che senza colpo ferire può oltre a vedere la barca dentro e fuori vederla anche sotto quindi e quindi quello è veramente un altro valore aggiunto perché senza dover spendere dei soldi si può si può valutare anche anche la carena della barca infatti ti stavo dicendo tu che sei genovese facciamo notare che avendo la barca fuori paghi un allaggio in meno e quindi sono soldi risparmiati sono soldi risparmiati sono soldi risparmiati ti assicuro che non è che viene vista così anche da tutte le altre regioni te lo posso contare è una cosa comune va bene allora per chi volesse insomma venire a vedere questa barca potrà scriverci a infochiocciolabaiottin.com noi vi metteremo in contatto con Giuseppe per organizzare una visita a bordo per cui approfittatene perché puoi vedere appunto la barca ripeto mi ripeto di nuovo con Giuseppe è veramente come andare al salone a vedere una barca e quindi insomma approfittatene numerosi Giuseppe è il nostro uomo per chi non lo conoscesse ma ormai lo conoscono tutti è il nostro uomo a baiotti con l'ufficio a lavagna spazio un po' per quella che è la Liguria quindi la Spezia fino ad arrivare a Livorno ci tiene molto alla benzina quindi chi vuole venire deve comprare se no Giuseppe non viene sappiatelo te lo posso te la posso concedere Giuseppe grazie mille no grazie mille a te sempre un piacere fare le dirette con te speriamo di avere di avere occasione di farne un'altra presto assolutamente non su questa perché questa la venderemo secondo me a breve e quindi sulla prossima sulla prossima sulla prossima è sempre un piacere fare con te e ritorno all'ovile adesso tornare al nord sono in salita consumerò di più quindi andrò un po' più lento vai piano vai piano ciao Giuseppe ti metto spettatore vado a chiudere grazie mille ok saluti a tutti e arrivederci grazie ciao ciao allora io prima di chiudere vi ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail che è info chiocciolabaiottin.com per cui scriveteci per avere maggiori informazioni e organizzare un'eventuale visita a bordo sul Gran Soleil 43 Botin e Car Kick io vi saluto vi ringrazio vi seguite sempre il nostro sito per vedere le prossime video dirette rimanere sempre aggiornati vi auguro una buona serata e arrivederci a tutti grazie a tutti